Troppo facile, ma accetto lo stesso, da Carbonara a Gesù Cristo in 15 secondi, al tempo. Allora, pasta da Carbonara, piatto del Lazio, facilissimo. Allora, città del Vaticano, ecco qua, cerchiamo allora di andare a Roma. E a Roma vediamo quindi Chiesa Cattolica, Chiesa Cattolica sicuramente mi porta, qua non carica, a Gesù Cristo, fatto. Ragazzi, ma è troppo facile, se volete le più difficili vi aspetto su Instagram.